L'immagine descrive un'opera d'arte vibrante e surreale, con un forte impatto visivo. La rosa blu in primo piano è senza dubbio il fulcro della composizione, rappresentata con contorni astratti e fluidi che la rendono quasi viva. Questo uso del colore e della forma richiama l'intensità emotiva di molte opere di Vincent Van Gogh, suggerendo una connessione profonda tra l'arte e i sentimenti. Sulla destra, il volto umano stilizzato che sembra soffiare verso la rosa aggiunge un elemento di interazione, creando un dialogo visivo tra i due soggetti. Questo gesto potrebbe simboleggiare amore, ammirazione o un gesto di benedizione, offrendo al pubblico una riflessione più profonda sul significato dell'opera. Il background, caratterizzato da un cielo texturizzato e vorticoso, ricco di punti arancioni che evocano stelle, amplifica la dimensione onirica dell'immagine. La presenza di un grande corpo celeste, che potrebbe essere il sole o la luna, contribuisce a creare un'atmosfera di meraviglia e di mistero. Infine, il testo La Rosa di Van Gogh in rosso brillante non solo rende omaggio all'artista, ma serve anche a unire il tutto. Fornendo un contesto che invita a riflettere sulla relazione tra la natura e l'arte. In sintesi, l'opera riesce a fondere colori audaci e linee dinamiche in un'interpretazione moderna e surreale che celebra la bellezza e l'intensità emotiva. Perfettamente in linea con l'eredità di Van Gogh. Grazie. Grazie.